Noi siamo qui a Savignano, all'off di Savignano con il nostro progetto Mappa Rimini, che è un progetto di mappatura del territorio e abbiamo chiesto ai nostri soci durante quest'anno di vedere Rimini in maniera un po' diversa, abbiamo chiesto di vederlo in maniera verticale perché il nostro obiettivo finale era quello di fare una fissione per la città di Rimini sulle plance, quindi l'idea di portare Rimini in pubblicità ma senza la pubblicità e abbiamo chiesto di ispirarsi, ogni mappa aveva delle emozioni e delle azioni e dovevano pensare a quello ma pensare in verticale che non è così scontato, soprattutto nei paesaggi e sono arrivate tantissime foto, ogni mappa abbiamo scelto che fosse giudicata da un solo giudice quindi l'idea era anche di vedere l'occhio del giudice e non soltanto l'occhio del fotografo e di tutte le foto che sono arrivate c'è stata una prima scrematura a 10, dopodiché una scrematura a 3 quindi per Rimini saranno 9 soggetti su circa 50 di foto per ogni soggetto e dall'11 di ottobre, noi siamo l'associazione fotografica T-Club e cos'altro? Lo rifacciamo anche l'anno prossimo, nel 2020 lo rifacciamo non è necessario essere di Rimini, nel senso che si può anche fare una vacanza a Rimini guardare i temi, scattarle e vederle anche in brevissimo tempo e poi inviarcele bisogna associarsi e basta, ho detto credo tutto, grazie mille